Va ora in onda Radio Speranza Notizie. A cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87 6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it. Ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Apriamo con le notizie sul versante del lavoro. La provincia di Pescara, settore lavoro e formazione, ha pubblicato un avviso rivolto alle aziende invitandole a candidarsi per ospitare un tirocinante nel quadro delle attività previste da due progetti sperimentali. Riparto, percorso di accompagnamento per circa 70 donne che sono uscite dal mercato del lavoro per esigenze legate alla nascita di un figlio e che sono interessate a rientrare. E tandem, percorso invece di accompagnamento al primo ingresso nel mondo del lavoro per 100 giovani e brillanti neolaureati. E l'indagine del Sole 24 ore sulla specializzazione produttiva delle province italiane pone Chieti al secondo posto dopo Ferrara tra i territori emergenti nel settore manifatturiero. Paolo Primavera, presidente di Confindustria Chieti, commenta Il fatto di essere così considerati rappresenta un motivo di speranza e di riflessione sia per gli imprenditori sia per l'intero territorio teatino. Cambiamo argomento, Trasacco è il primo comune in Abruzzo ad aver avuto approvata la microzonazione sismica dopo l'adeguamento a quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio numero 4007 del 2012. E' un passaggio obbligato in vista della redazione della variante al piano regolatore, che permette di individuare problemi del sottosuolo ed edificare in maniera adeguata. Le calamità non si possono prevedere, unico antidoto è farsi trovare pronti, costruendo con coscienza e in sicurezza, ha commentato il sindaco di Trasacco, Mario Quaglieri. Nasce a Torre Vecchia a Teatina il terzo hospice d'Abruzzo. La struttura sanitaria è stata inaugurata oggi. La realizzazione della terza struttura regionale di cure palliative per malati terminali rappresenta, secondo quanto affermato dal Presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, un miglioramento ulteriore dell'offerta sanitaria regionale. Corsa in montagna su un tracciato di 15 chilometri e mille metri di dislivello sulle tracce del lupo. E' l'Eco Trail di Valvesola, gara inserita nel circuito Parks Trail che il 23 giugno prossimo segnerà il campionato regionale Xen di specialità. L'iniziativa nasce dal Let's Run for Solidarity e Parco Nazionale della Maiella. La gara toccherà i punti caratteristici dell'area, il campanaro, le cascate di San Giovanni, la valle del Vesola e la piana delle Mele. Hanno già aderito numerosi runners da tutta Italia. Il comandante regionale dell'esercito per la Regione Abruzzo, Rino De Vito, nell'ambito delle varie visite istituzionali con le autorità locali, ha incontrato il questore di Chieti, Filippo Barboso, presso la caserma Spinucci, Tiatina, sede di alcuni uffici della questura e del locale centro documentazione dell'esercito, comandato dal colonnello Michele Galotto. Confermata la collaborazione a livello periferico tra esercito e polizia di Stato. Ed è accordo tra Comune di Pescara ed Unità per la protezione civile dell'Associazione dell'Arma dei Carabinieri Onlus per la sorveglianza del Parco Florida, che sarà gestita proprio dall'Associazione dal 15 giugno al 15 settembre tutti i giorni con turni alterni, cioè un giorno di mattina ed un giorno di pomeriggio, assicurando il pieno rispetto del decoro e delle regole cittadine. Dopo oltre un anno di attività paralizzate per il mancato dragaggio, la marineria di Pescara rischia ben presto di bloccarsi nuovamente per il fermo biologico. Nulla di nuovo dal ministero competente guidato da Nunzia De Girolamo, raggiunta però da un'interrogazione parlamentare presentata alla Camera sulla richiesta di esonero dall'esponente pescarese di SEL Gianni Melilla. Non si può tacere, noi non ci arrendiamo. Con questo motto la consigliera di parità della provincia di Pescara, Vittoria Colangelo, ha promosso il Comitato Ora si può, ora si deve. L'obiettivo è raccogliere le firme richieste dalla legge regionale 76 del 1987 per la presentazione di un progetto di legge che introduca il sistema della doppia preferenza di genere. Il Comitato ha già avuto l'adesione di Federica Chiavaroli, Nicoletta Veri, Alessandra Petri, Fabrizio Di Stefano, Marinella Sclocco, Maurizio Cerbo, Gemma Andreini e tanti altri. L'assessore al turismo del Comune dell'Aquila, Lelio De Sanctis, ha presentato ieri il programma del primo forum delle città celestiniane che si terrà a Palazzetto dei Nobili dal 14 giugno. Abbiamo pensato di organizzare questo forum, ha dichiarato De Sanctis, in occasione del settimo centenario della canonizzazione di San Pietro Celestino V, avvenuta ad Avignone nel 1313. Prende in via oggi la quinta edizione del Festival Letterario Montesilvano Scrive nel suggestivo Borgo Antico di Montesilvano Colle. Tutti gli appuntamenti fino al 16 giugno avranno luogo di sera all'aperto con ingresso gratuito, prestigioso il parterra di scrittori protagonisti, tra gli ospiti delle cinque giornate, autori di fama internazionale come Dacia Maraini, il premio strega Paolo Giordano e Antonio Scurati. Prosegue presso la parrocchia di Sant'Antonio da Padova in Pescara il programma per i festeggiamenti di Sant'Antonio da Padova. In attesa della giornata di domani, quella cioè della festa di Sant'Antonio, quando tra le altre cose alle ore 19 ci sarà la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Pescara Penne e Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti alle ore 19, seguita alle 20 dalla processione per le vie della parrocchia, oggi alle ore 20 ci sarà il recital di canti sacri con i menestrelli di Anxa e alle 21.30 la celebrazione del transito di Sant'Antonio. Si svolgerà il prossimo 18 giugno martedì alle ore 9.30 presso il Santuario del Beato Nunzio sul Prizio, nel cinquantesimo anniversario della sua beatificazione, l'ultimo ritiro del clero diocesano di Pescara Penne prima della pausa estiva. Sarà lo stesso Arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti a suggerire qualche spunto di riflessione al clero diocesano che possa essere utile, dice al nostro cammino spirituale e ministeriale, così scrive in una lettera al clero diocesano Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti. Nell'occasione il presole annuncia anche che il 20 giugno prossimo sarà inaugurata ufficialmente la Cittadella della Carità con il dormitorio e la mensa per i poveri a Pescara. A presiedere l'evento sarà a sua eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco, presidente della CEI. Ed è in vendita un'attività commerciale di articoli sacri, libreria e oggettistica religiosa a Pescara in via del Santuario 247. Per informazioni si può contattare la 340-4625-607, ripetiamo, 340-4625-607 o scrivere un'e-mail a arte-divina-libero.it E siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 18 a 21 gradi e mezzo e venti moderati. Domani si prevede cielo sereno con temperature da 18 a 25 gradi e mezzo e venti moderati. Il mare è previsto mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natasha in regia. E da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie per essere stati con noi e a risultati.